Ragazzi, si siete? Col corpo sì che la testa no Certo, sono pronta per prendere tutti gli appunti Io stavo in etargo, poi arriva questa che rompe Oh, ti ho sentito, eh! Trafoggi, di cosa vogliamo parlare? What are you doing in the quarantena? Ma quindi è cambiato l'orario? Excuse me, ma tu di girare in silenzio ti fa schifo? Ma che demmo fa? Ma io voglio dormire, fannoso Sei proprio nulla facente E dobbiamo interrogare o spiegare? Spiegare, spiegare Sì, prof, spiegare Sì, sì, prof Prof, però mi sa che doveva interrogare oggi Ah, oh, a sto caso umano ti levate internet per favore No, ma non lo voglio! Non mi ricordo neanche come vediamo Giusto, giusto Allora Gaia E te pareva, tanto tutto il mondo che chiama me Io non ho capito ancora se è cambiato l'orario Ma ti sembra il caso di chiedere queste cose adesso? Comunque Gaia, explain Perfetto, a me non mi ha chiamato Disattivuto quanto e me ne torno a dormire E Marco, tu mi parli di que- Ah, basta, però, vedo il primo mezzo E' giusto essere interrogato E va a cederlo